E' stata bocciata dalla Corte Costituzionale la legge regionale 38 del 2015 con la quale si istituiva il Parco Naturale Regionale della Costa dei Trabocchi. Un blando tentativo approvato all'unanimità dal Consiglio regionale per opporsi alle trivellazioni in mare e tutelare così uno dei tratti di costa più caratteristici dell'Adriatico. Ma la Suprema Corte ha dichiarato la legge regionale incostituzionale. L'area protetta era stata individuata su sei miglia marine tra il confine nord del comune di San Vitochietino e il confine sud del comune di Rocca San Giovanni e sono proprio questi confini marini che ne hanno determinato l'incostituzionalità. Secondo la Corte Costituzionale infatti quello della Costa dei Trabocchi viene definito Parco Naturale Regionale ma nei fatti è una riserva marina protetta. Di conseguenza la legge è in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia nella quale rientrano appunto le aree marine protette. Un Parco Naturale Regionale ribadisce infatti la consulta solo marginalmente può comprendere anche tratti di mare prospicenti la costa mentre la reale portata della legge in esame è tesa in realtà alla creazione di un'area marina protetta in violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. La legge 38 era stata impugnata alla Corte Costituzionale nel dicembre 2015 dal governo di Matteo Renzi per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Violazione riconosciuta dalla Corte. La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio. Grazie. 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 Grazie.